Un caloroso saluto a tutti i fratelli e sorelle della chiesa di Via Appia. Vi penso sempre e siete sempre nel mio cuore. Oggi finalmente ho deciso di seguire ufficialmente Gesù e sono contentissimo di far parte della chiesa avventista. Spero di vedervi presto e vi mando tanti 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 saluti e che Dio vi benedica. E Dio vi mando il tuo cuore e Dio vi mando il tuo cuore e Dio vi mando il tuo cuore. E Dio vi mando il tuo cuore. Perché di vostra personali fede in Gesù e perché di vostra decisione di seguire lui e di lavorare, di spostare il suo Reino in questo posto, sono felice di baptizzare voi in nome del Dio, del Dio e del Dio. Ciao! Mi firstui incontrere con Gesù era quando ero baptizzato come romano catholicamente. Non avevo tempo abbastanza con lui, quando ero youngo. Non ero into cristianità, non sapeva cosa che significa. Io ho cominciato a sapere di la Iglesia di Adventist. La prima volta, 7 anni fa, quando ero con la mia esposa, che è un'Adventista. Mi sentimento e sensazione sono molto, molto vicino con il Signore. Era un sentimento che ho conosciuto e che il Signore mi chiamava. Sì, anni passi e finalmente, dopo molti anni di essere in la Iglesia e getting to know la Worde del Signore, ho finalmente deciso di essere baptizzato. Da ora, sarà il mio cammino con Gesù e con la mia famiglia. e questo è un messaggio che voglio raccontare il mondo, che mi sono felice di essere un follower di Gesù. Io ho già stato coinvolto con la mia famiglia, con la mia famiglia, e anche con l'Adventurist Club. e anche con la mia famiglia, e anche con la mia famiglia, io continuo di essere involvata con tutte queste ministri. E io invito a tutti quei che non sono appena, a considerare questa vita. Blessi.